Il gol è venuto dopo che abbiamo fatto quello che avevamo provato, dovevamo allargare il gioco più volte e poi cercare di trovare magari il tiro da fuori, visto che loro si sono messi praticamente assai dietro e non era facile sfondare. Avendo forse un po' più di cinismo potevamo fare anche il secondo gol, però abbiamo giocato secondo me una buona partita, abbiamo dato tutto e questo è importante.